Allora io sono Maria Sole Bondioli e sono appunto l'assegnista del progetto RAMSETE e lì dal vivo c'è il professor Paolo Milazzo che è stato uno dei professori che mi ha sostenuto e mi ha guidato ecco in questo è un referente di questo progetto il progetto si è svolto appunto in partnership con l'Università di Pisa, il Dipartimento di Informatica e quello di Ingegneria, il Museo di Storia Naturale di Pisa che risiede a Calcina, alla Certosa e l'azienda di marketing del turismo Tuscan Solution. Appunto l'idea di partenza del progetto era quella di strutturare un'architettura digitale che facilitasse la fruizione del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa a visitatori senza guida in partenza quindi tutte quelle persone che attraversano il museo senza visita guidata. Si parla di un museo molto ampio con tantissime sale in una struttura storica dalle ricchezze inestimabili con una collezione ampissima e anche con una mappa del museo molto variabile quindi l'idea era quella di da un lato creare un'infrastruttura che facilitasse il muoversi nelle sale e dall'altra che stimolasse l'utente, il visitatore e la visitatrice a approfondire contenuti che altrimenti rimarrebbero nascosti sia nella quantità delle informazioni che ci sono e sia perché privi di guida magari sfuggono. Quindi nel dettaglio l'idea era quella quando abbiamo iniziato il progetto e quindi con le numerose riunioni anche con il personale del museo specifico e formato appunto per le varie aree del museo e l'azienda e appunto tutte le persone collaboratrici delle varie partnership è stato fatto un progetto appunto una discussione di analisi dei requisiti partecipativa di molti mesi e da lì si sono delineati questi obiettivi che erano quelli di appunto da una parte trasmettere le informazioni dall'altra supportare i visitatori proprio nel muoversi nel museo stimolare la curiosità e l'attenzione anche veicolare i principi cardine del museo che essendo un museo di storia naturale è guidato da una serie di punti imprescindibili per il visitatore che lo attraversa e quindi la comprensione e la questione del rispetto dell'ambiente, dell'ecologia, della conoscenza dello stato di salvaguardia della natura e appunto della flora e della fauna, la conoscenza della propria storia locale anche e creare anche contesti di socializzazione quindi l'idea di uno strumento, immaginare uno strumento che non chiudesse il visitatore o la visitatrice nel proprio telefono, nel proprio mondo digitale ma che lo veicolasse nel muoversi nella realtà piuttosto quindi la sfida era come mettere dei contenuti che non facessero abbassare però lo sguardo oramai molto abituale nel proprio telefono ma che uscisse un po' l'attenzione e arrivasse alle sale del museo invitando appunto a percorrere queste sale con un ordine ma anche con un senso di sorpresa e di immaginazione quindi mettere insieme la realtà del museo con tutta una serie di elementi che aggiunge la tecnologia. Per fare questo ci siamo immaginati di utilizzare dei strumenti da un lato a basso posto perché fondamentalmente è stato sviluppato tutto in WordPress e con la possibilità di una futura modifica e anche facile manipolazione dello strumento da parte di persone anche non esperte di sviluppo quindi l'idea che si potesse fare proprio anche sulla base dell'esigenza del museo un prodotto flessibile via interfaccia quindi che persone anche non appunto esperte di sviluppo ma invece esperte del contesto museale in cui si parla quindi zoologi ma anche responsabili dell'area educativa ma anche appunto mineralologi o anche altre figure potessero poi responsabilizzare della comunicazione della grafica del museo potessero avere in futuro nel momento in cui il museo ha delle esigenze di flessibilità modificare i contenuti e quindi WordPress era una piattaforma ideale per questo e su quest'idea dello stimolo della curiosità abbiamo immaginato da subito che fosse necessario un impianto di gioco quindi di non solo di informazioni che venivano date ma anche di si chiama appunto il concetto di gamification e quindi di premi e di punti che facilitassero un po' l'interazione con il museo e quindi l'uso di plugin quindi di supporti per WordPress che facilitino la creazione di giochi e di punti senza dover mettere mano ai codici ma facendolo tutto tramite interfaccia dal sito no in questa stessa prospettiva quello che era il titolo quindi l'RFID in ambito museale per un'esperienza interattiva si chiama il nostro progetto in realtà l'RFID sono questi rilevatori di movimento fondamentalmente l'antitaccheggio per immaginarcelo in realtà c'è stato in corso d'opera una trasformazione di questo dell'idea di questo strumento e quindi se all'inizio si immaginava la possibilità di tracciare e facilitare l'interazione con le sale e con i giochi delle sale con questo questi rilevatori di movimento che interagivano con i telefoni delle persone si è passato poi a l'idea di un primo prototipo con che simulasse la stessa funzione ma con i QR code da una parte perché l'RFID è una tecnologia molto più costosa un investimento più più grosso che comunque era molto sperimentale per il museo quindi ci sembrava anche sensato fare una prima progettazione che andasse a verificare con costi più bassi se questo progetto funzionava sul contesto del museo di storia naturale e dall'altra perché i QR code anche questi sono più facilmente gestibili da persone non esperte quindi non non richiede una modifica di appunto di una tecnologia di una che richiede un'esperienza molto elevata dal punto di vista appunto di sviluppo quello su cui noi vogliamo mettere in realtà l'accento in questa esposizione è soprattutto come è stato fatto questo come è stato fatto come è avvenuto il processo di design e di costruzione di questo prodotto e di questa esperienza perché noi da soli in quanto informatici non saremmo mai riuscite a fare quello che abbiamo immaginato insieme a un team multidisciplinare come quello del museo insieme anche appunto all'azienda Tuscan Solution ed è l'idea di creare questo gioco che è un gioco che si basa su dei moduli quindi per ogni stanza ogni stanza è un modulo e questi moduli sono stati ideati insieme a direttamente al personale del museo a chi effettua le guide a chi è esperto appunto della area educativa a chi è esperto delle collezioni che ci sono dentro il museo quindi un'ampissima collezione da una parte zoologica e dall'altra tutta la questione delle rete zoologiche e quindi tutta la parte della storia anche del territorio e l'idea era insieme a loro di pensare a degli elementi di gioco e di ricompensa utili per facilitare il coinvolgimento per le singole collezioni quindi si tratta di una condivisione di un sapere molto ampio quindi di noi entrare in contatto con chi le attraversa tutti i giorni quelle sale e capire cosa andava messo in rilievo e in luce e come si trattava di valorizzarlo attraverso dei mini giochi giochi molto facili da sviluppare anche molto accessibili per tutte le età quindi anche un range di pubblico molto ampio dall'altra insieme appunto al nostro gruppo di multidisciplinare appunto di design e progettazione abbiamo immaginato una cornice narrativa che coinvolgesse completamente tutto il percorso del museo quindi per ogni QR code c'è un momento di svolgimento di un'avventura che inizia con l'inizio della visita e termina al finire del museo quindi il visitatore e l'utente è guidato da una storia fantastica che vede come protagonisti questi personaggi che sono dei personaggi che sono animali del museo che attraverso il loro dolo di panarsi di questa storia che è una storia investigativa facilitano da un lato l'acquisizione di una serie di caratteri specifici di determinati animali che abbiamo voluto mettere in rilievo e dall'altra tutti il raggiungimento di tutti gli obiettivi che abbiamo messo prima quindi veicolare i principi del museo attirare l'attenzione su determinate aspetti nascosti anche delle collezioni e tutto questo tramite però una storia accattivante a questo abbiamo aggiunto un contributo grafico innovativo sia l'idea che per fare quella simulazione di da un lato immersione nel museo ma dall'altra mondo di fantasia abbiamo ideato questo tratto stilistico specifico che è un misto di illustrazione e fotografia quindi l'idea che a ogni QR code corrisponde da un lato una sorta di simulazione di realtà aumentata per cui si è dentro la stanza e si guarda dal proprio telefono una storia che avviene con dei particolari disegnati che sono delle aggiunte a dove ci si trova quindi ad esempio nella stanza della stanza delle meraviglie ci saranno però dell'aggiunta ai personaggi che svolgono delle attività quindi ci sono dei video interattivi e i personaggi appunto che in uno stile abbastanza anni 90 di videogiochi con le loro box di testo percorrono le sale con dei dialoghi che inseriscono il visitatore da un lato lo avvicinano alle collezioni e dall'altro però lo fanno lo fanno eseguire quei giochi modulari che si presentano in base a quello che appunto si vuole si vuole evidenziare della stanza. Questo è una mole di lavoro abbastanza ampia perché si tratta appunto di almeno una ventina di moduli di macro moduli di QR code con all'interno giochi storia e informazioni del museo e con una possibilità di appunto da una parte profilazione degli utenti quindi a seconda dei giochi che loro che loro eseguono e c'è anche un'ampia possibilità di scelta perché poi il museo è ampissimo quindi può succedere che comunque non venga non vengano attraversate tutte le sale oppure che venga interrotto e ripreso poi il gioco quindi c'è la possibilità di login e poi di una profilazione nel senso di punteggi che attribuiscono poi alla fine di tutto un determinato profilo ad esempio esperto conoscitore della storia, esperto della zoologia, esperto degli animali, della savana, ci sono una serie di categorie che poi suscitano anche l'interesse e magari la voglia di rifare anche il percorso perché tanto è una vastità talmente ampia di informazioni che non si esauriscono sicuramente in una visita quindi ad oggi c'è un prototipo che è il primo prototipo che è nato da Ramsete che si chiama grosso guaio al museo e con questo grosso guaio al museo oramai siamo appunto a un prodotto che è modulabile per ora percorrere tutte le stanze ma ci immaginiamo come in realtà questo prodotto possa essere trasformato e si possa appunto evolvere in base alle esigenze del museo future, l'idea di una possibilità di implementazione di sistemi di analisi di dati quindi sulla base dei punteggi che si guadagnano a capire dove i visitatori vanno, dove non vanno, cosa ampliare, cosa restringere, l'idea di replicarlo in altri contesti museali con le proprie specificità perché questo sistema modulare si può trasformare e l'idea di cambiare e affinare l'approccio delle strategie di gamification una volta messe alla prova perché appunto si può facilmente modificare anche l'impianto dei giochi e dei premi delle ricompense e l'idea nel museo stesso in cui siamo ora di produrre altri percorsi proprio perché dicevo per la vastità delle possibilità che ci sono nel contesto del museo di storia naturale. Quindi è un museo antichissimo che vede però l'interazione con un aspetto di gioco, di divertimento ma anche di informazioni date attraverso dei modi innovativi per un pubblico vasto da appunti più piccoli in realtà alle persone grandi e che speriamo che aumenti questa appunto fruizione che già è molto ampia, anzi esplosa dopo la pandemia nel contesto del museo di storia naturale ma che gli permetta delle nuove forme di esplorazione delle collezioni. Grazie, scusate la lunghezza.